Il grafico di cui nessuno parla ma anche un grafico importante, un punto di snodo rilevantissimo che può cambiare le sorti anche di Bitcoin nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ma è un grafico di lungo periodo, è un grafico che abbiamo già guardato ma che sta facendo una cosa che è differente rispetto agli altri periodi storici per la prima volta dalla nascita di Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video che cosa sta cambiando sui mercati delle cripto e qualcosa sta cambiando, in realtà vi darò la mia opinione proprio verso la fine del video quando parleremo delle conclusioni, prima analizzeremo questo grafico con un indicatore anche sviluppato da me che analizza questo determinato momento fornendo anche delle indicazioni rilevanti per l'analisi di questo grafico ma c'è una differenza molto importante, ancora non è una differenza così marcata rispetto ai momenti diciamo agli halving precedenti di Bitcoin ma esiste e va tenuta sotto stretto controllo e soprattutto ci sta dando anche una indicazione, ok? Ne parleremo adesso in questo video, faremo una serie di punti di vista per analizzarle in maniera precisa questo nuovo grafico, questo grafico però ci sta dando anche un punto di uscita da quella che potrebbe essere una situazione anomala che potrebbe minare anche le aspettative che abbiamo noi e tutti quanti gli altri sul proseguo di questa fase di boom run di Bitcoin nel prossimo anno Bene ragazzi, allora prima di passare a questo video stra intenso vi chiedo i pollicioni in su e poi ovviamente parliamo della Academy ragazzi perché mancano pochi giorni alla chiusura della nostra Academy che è stata riaperta la lunedì scorso nel video live che abbiamo fatto mercoledì trovate tutte le informazioni relative a quello che c'è all'interno dell'Academy ma oggi voglio rispondere ad una domanda una domanda che mi è arrivata gentile devo dire la verità, a volte le domande non sono molto gentili quando si tratta di queste cose mi è stato chiesto perché c'è bisogno di una Academy Allora, la domanda non è stupida e molti di voi in realtà potrebbero effettivamente porti questa domanda perché c'è bisogno di un Academy di trading e di investimenti a cosa serve? è una domanda legittima ed è qui che la Trading on Academy fa la differenza vi faccio un esempio quando sei solo, ad esempio, davanti a un grafico è facile sentirsi smarriti, sovraccaricati di informazioni e soprattutto tentati di prendere delle decisioni di natura impulsiva un Academy strutturata come la nostra ti dà in pratica quello che è un supporto che non puoi avere isolandoti questa è una cosa importantissima da ricordare quando infatti si è sostanzialmente isolati nel proprio computerino davanti a casa non si hanno contatti con altre tipologie di logiche ok, andiamo a guardare i video su YouTube, andiamo a guardare le informazioni online ma una community di centinaia di trader che stanno analizzando quel mercato come te fa la differenza e soprattutto non ti fa sentire smarrito questo è importante la Trading on Academy non è solo un posto dove impari tecniche e strategie hai accesso infatti a un gruppo di supporto e alla condivisione di strategie di trading e operatività di natura scientifica qui tra le altre cose trovi tutta una serie di dati ma insomma puoi rifarti al video di mercoledì dove abbiamo parlato di tutte queste cose questi tra l'altro questa operatività è sviluppata anche e soprattutto la mia in forma scientifica e su basi di natura matematica e algoritmica perché io sono un analista quantitativo e faccio queste cose e ciò ti permette di prendere decisioni ragionate riducendo lo stress emotivo allora io batto sempre il chiodo sulla questione emotiva l'Academy serve ragazzi come tutti i gruppi servono per combattere gli errori emotivi e gli errori emotivi sono il 70-80% degli errori che fanno fallire ogni forma di operatività di trading e investimento non fate l'errore di considerare il trading diverso all'investimento sulla base degli errori emotivi è la stessa identica cosa anzi nell'ambito degli investimenti gli errori emotivi sono messi sotto il tappeto e quando escono fuori hanno impatti per decenni quindi l'errore di natura emotiva è il vero nemico della vostra operatività che siate trader o siate investimenti e la partecipazione in Academy vi aiuta a prendere decisioni di natura ragionata riducendo appunto questo impatto emotivo e i rischi legati all'improvvisazione ma ancora diciamo se vogliamo approfondire ulteriormente chi ha accesso a community di persone che condividono lo stesso percorso può diciamo confrontarsi quindi trova un ambiente di confronto è anche un ambiente dove si impara dagli altri ma allo stesso tempo impari anche dai tuoi stessi errori perché cosa succede? allora la stessa operazione che magari noi stiamo svolgendo viene fatta da me, da altri trader ognuno c'è il suo, ognuno mette il suo personale quindi si impara da cosa? dall'errore che magari fanno sulle mie operazioni dal fatto che la mia operazione magari è andata bene e quella che gli altri trader è andata male è perché era differente cosa era differente? e quindi si impara dagli errori degli altri dai tuoi errori e dai successi degli altri e dai successi tuoi sfruttando appunto l'intelligenza che è un'intelligenza collettiva del gruppo questo è il vero senso di un gruppo ed è la vera spada diciamo in mano non la spada nella roccia di chi fa l'investimento del trader quello che cambia veramente tutto perché non è solo un corso dove si impara la tecnica e la teoria che quella deve essere presente ma serve per diciamo essere accompagnati in questo viaggio tant'è vero che ad esempio in academy si può anche entrare e operare immediatamente andando a vedere la mia operatività e magari dicendo che la faccio uguale e io vi sconsiglio ovviamente di fare lo sapete che non ho ragione così però si può operare in maniera istantanea ok? facendo quelle cose lì che sono molto 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 prudenziali nel momento in cui però si sta dentro poi si può sviluppare la propria tipologia di strategia andando ad adattare andando a comprendere dei meccanismi e questo vi aiuta tanto ragazzi perché poi alla fine non c'è bisogno di inventare la ruota io lo dico sempre questa cosa quando si può far parte di una community che ti offre strumenti già testati è un percorso chiaro perché ritornare a inventare la ruota da soli ognuno può fare il suo percorso ed è giusto che sia così ognuno deve fare il suo percorso ma se siete accompagnati e tenuti per mano è un po' più facile allora l'academy sta rieprendo ha riaperto ragazzi e sta diciamo ancora aperta fino a lunedì prossimo trovate tutti i dettagli qui tra le altre cose ho svelato anche il bonus che hanno gli abbonati annuali quest'anno perché ci sarà anche il canale nuovo quello sulla Al Season che si occuperà esclusivamente di analisi di progetti molto molto volatili quindi stralicchiosi e quant'altro faremo tutto insieme lì se parte l'Al Season noi ci stiamo sopra e questo ormai l'avete capito allora passiamo al video di oggi per quanto riguarda la questione legata al grafico di cui nessuno parla ragazzi questo è il grafico dell'albing di Bitcoin abbiamo visto un po' di tempo fa lo andiamo ad aggiornare perché ci sono delle differenze ora io sto registrando in tempi non sospetti questo video ragazzi perché in questo stesso istante mentre voi guardate il video io sono a Roma a fare il mio intervento il mio speech a Investing Roma e quindi non volevo lasciarvi senza video e volevo parlare anche di una cosa che non è una cosa che insomma si modifica nell'arco di pochi giorni e questo è rilevante allora il grafico dell'albing ha dei dettagli che ci fanno comprendere se effettivamente siamo nella stessa identica situazione degli albing precedenti oppure qualcosa sta cambiando il primo dato oggettivo che dobbiamo andare a vedere che è la forma dei movimenti di prezzo rispetto all'albing per esempio quello del 2016 e poi quello del 2020 i precedenti ci sono anche io li terrei però un po' meno sotto osservazione perché ad esempio l'albing del 2012 è veramente molto diverso da quello attuale intanto ragazzi i mercati cambiano sempre il passato noi lo guardiamo per avere un'idea generale anche perché è l'unica cosa che possiamo fare per avere un dato oggettivo sui mercati però i mercati cambiano sempre non sono mai gli stessi ciò significa è anche dato dal fatto che cambiano tutti gli operatori che sono all'interno nell'anno 2024 su bitcoin e nei mercati cripto in generale sono cambiate delle cose importanti intanto nell'anno 2022 è venuto meno FTX ragazzi che era un pilastro della struttura delle cripto e quindi tante cose legate alle criptovalute soprattutto e non a bitcoin sono andati a morire per esempio molte attività di natura speculativa sono venute meno perché mancava in effetti una gestione che poi era alla media che faceva queste cose per FTX che comunque rendeva liquido il mercato facendo anche i loro giochetti chiaramente però ovviamente ragazzi più mercato è liquido più è vivo e questo è importante andando nel 2024 è avvenuto un evento storico per bitcoin sono stati approvati gli ETF di BlackRock questo significa che sono entrati in questo mercato investitori semi istituzionali direi perché i dati non li abbiamo non sappiamo effettivamente se sono istituzionali che hanno comprato l'ETF oppure medio piccoli investitori o medio grandi investitori io sarei più tentato nel dire medio grandi investitori però in linea di massima qualcosa è successo degli investitori che prima non c'erano sono entrati in questo mercato come ragionano? come si muovono? quali sono i loro movimenti emotivi le loro risposte psicologiche ai movimenti bruschi dei mercati delle crypto tutto questo modifica la price action dell'asset e quindi bitcoin si è modificato nell'anno 2024 in maniera sostanziale perché non è una modifica di natura emotiva dei trader dei retail dei partecipanti al gioco che erano già presenti negli anni precedenti gli exchange i miners e quant'altro qui ci sono nuovi partecipanti sono grossi sono incazzati e sono anche molto testardi e faranno di tutto per gestire questo asset e ottenerne profitto questo è indiscusso è indiscutibile questa cosa dobbiamo tenerlo in considerazione quindi qualcosa sta mutando è mutato l'assetto fondamentale di bitcoin con l'arrivo degli ETF ma anche da un punto di vista di price e sono cambiate le strutture guardate per esempio quello che era il periodo dell'albing del 2016 che è anche un halbing molto simile a quello attuale dove in effetti i massimi sono stati fatti pre-halbing ed erano massimi non storici come quelli che abbiamo fatto nell'anno 2024 però erano i massimi di periodo a parte l'ultimo picco del 2013 però tutti i massimi precedenti dal bear market non stati superati questo è un atteggiamento molto simile guardate la struttura brusca fase discendente e poi un lento ma inesorabile una lenta inesorabile ripresa dell'asset un classico atteggiamento da asset un poco liquido piccolo atteggiamento brusco quindi violenta risposta e immediatamente ripresa lenta come sempre bitcoin ci ha insegnato insomma ecco quello che è l'atteggiamento classico di bitcoin in quegli anni guardiamo invece l'halving del 2020 che è estremamente differente dagli altri guardate che differenza intanto i massimi sono stati toccati qui ma non hanno per esempio neanche superato i massimi del periodo precedente non gli storici guardate la differenza qui eravamo nel 2019 e quindi molto diverso dall'halving che abbiamo visto precedentemente brusco declino che in realtà anche qui non possiamo considerarlo perché la questione è pandemica e quindi in realtà quest'halving sembra più strutturato in questo modo cioè come se fosse una specie di barra di congestione che poi viene breccata e in lenta ascesa anche in questo caso però i precedenti massimi vengono superati veramente dopo tanto tempo adesso andiamo a fare poi questo calcolo l'attuale fase dell'halving è un'altra fase differente da quando arriva intanto abbiamo fatto i massimi precedentemente all'halving poi da quando arriva l'halving bitcoin inizia una fase di lento agonia leggera di trading range ma attenzione dura e perdura molto di più dei precedenti e questo è evidente infatti adesso andiamo a fare anche questo calcolo ed è proprio la vera differenza che c'è secondo me fra il momento post-halving dell'anno 2026 20 e del 2016 e quell'attuale 2024 perché le altre cose sono molto simili ma o comunque sono legate a momenti diversi come vi ho fatto vedere prima il massimo prima il massimo dopo ma la durata della ripresa del trend è beh ragazzi la durata della ripresa del trend è cambiata allora qui halving congestione trend e guardate precedentemente qui ancora peggio perché qui abbiamo halving brusca discesa trend qui non abbiamo nulla di tutto ciò è completamente diverso perché qui abbiamo halving poi barra di congestione down barra di congestione down barra di congestione barra di congestione e non sappiamo che cosa sta facendo adesso poi soprattutto c'è una differenza di cui vi avevo parlato mesi fa i tempi non sono rispettati questa è la vera chiave allora il tempo intercorso dal landing all'attuale momento di bitcoin è più alto rispetto ai precedenti quando bitcoin è andato teoricamente a riprendere i massimi che aveva da rompere cioè i massimi precedenti nel 2020 2021 i massimi erano quelli del 2019 attenzione perché qui ci da proprio il 2021 che ci da la carta da giocare per attendere una nuova data cioè che è quella invece del superamento dei massimi dei storici proprio di bitcoin che avviene in sostanza un po' più in là mentre nel 2016 stessa identica cosa abbiamo il superamento dei massimi precedenti a 168 giorni circa mentre i massimi storici vengono vengono poi superati molto più in là e sostanzialmente qui c'è stato un doppio massimo tra i 240 e 295 giorni a seconda di quello che è considerato come rottura dei massimi insomma intorno ai 250 giorni quindi qui abbiamo un superamento dei massimi storici a circa 204 giorni qui a 240 290 giorni ma il superamento dei massimi precedenti è avvenuto intorno ai 60 70 andiamo a vedere che cosa invece sta facendo in questo frangente intanto dall'alving sono passati 170 giorni e non siamo riusciti a salire sui massimi precedenti l'alving quindi questo è un primo dato completamente diverso dai precedenti ovvio si tratta di poco tempo ancora quindi possiamo stare un po' tranquilli io dico che se analizziamo dati di natura temporale il 20% va messo in conto in questo caso un 20% e circa 32 40 giorni ora qui io li potrei inserire tranquillamente andando a prendermi 200 passaggiorni di tempo e quindi fissando una data intorno a 14 novembre in cui bitcoin avrebbe necessità di fare questo movimento breccando i massimi del periodo precedente che in questo caso solo in questo caso unico consistono anche nei massimi storici perciò un po' di anomalia c'è da questo punto di vista ma c'è anche questo dato che non ci fa disperare quindi se è vero che questo grafico inizia a mettere in dubbio la possibilità di assistere a una nuova fase importante di burrano la fase finale in pratica come nei cicli precedenti da un altro punto di vista abbiamo ancora tempo per aspettare questo segnale è anche vero ragazzi che a volte i mercati quando vogliono andare verso una direzione e beh ci vanno velocemente non è che poi aspettano tutto questo tempo c'è anche da dire che però in questa particolare situazione la fase accumulativa degli etf bitcoin potrebbe essere in effetti la giustificazione di questa lentezza attuale del mercato e non è da non considerare perché in effetti l'etf da poco che sta dentro e soprattutto quello di blackrock sta accumulando capitali quindi prima di una burrana magari gli investitori vogliono accumulare questo ci sta è una logica che possiamo tenere in considerazione morale della favola quali sono quindi le date oltre le quali siamo nella serie storica per la prima volta completamente diversa e possiamo iniziare diciamo a materialmente preoccuparci in maniera civile sono da novembre 2024 intanto questa zona che io chiamerò intorno alla prima decada di novembre 2024 se non superiamo i massimi storici e poi l'altra fase è secondo me intorno a gennaio febbraio i primi massimo di febbraio non dopo del 2025 gennaio 2025 morale della favola se bitcoin non riuscirà a oltrepassare i massimi storici entro questa lasto temporale siamo in un'anomalia ciclica rispetto ai cicli dell'albigh precedenti poi si vedrà ragazzi la può fare assolutamente sì i mercati fanno quello che gli pare però ovviamente noi non ci auguriamo che avvengano cose del genere vi faccio vedere anche l'ultimo indicatore quello che vi ho promesso che ho fatto io questo è un indicatore di ipercomprato ed ipervenduto che giustamente indicava per esempio vedete qui nella fase dell'app di marzo che bitcoin aveva raggiunto la sua fase di eccesso dopo i minimi del 2022 e che effettivamente poteva iniziare una fase di respiro potenzione fase di respiro non vuol dire crollo infatti il crollo non c'è mai stato la stessa identica cosa l'aveva fatta precedentemente ma poi successivamente aveva innescato in pratica delle fasi rialziste in realtà è come se fossimo in questa zona per esempio più simile il 2016 quindi come se fossimo in questa zona qui post alping c'è stata una fase laterale vedete per poi riprendere la fase della bull allora questo indicatore è interessante perché può dare una divergenza come si suol dire e questa divergenza potrebbe essere a breve confermata una divergenza importante perché indicherebbe che siamo fuori da quella fase ciclica e siamo già arrivati a una fase di per venduto che lascia tutte le possibilità di assistere a una nuova struttura rialzista di questo indicatore che appunto vada a innescare la burran finale per chiudere i giochi quindi in primis per avvenire una cosa del genere necessita di una divergenza rispetto al trend precedente quindi il trend precedente è evidentemente ribassista qui e sembrerebbe guardatelo un po' sembrerebbe aver tentato questa struttura di breakout non è confermato perché bisogna anche rompere i livelli di resistenza orizzontali che sono molto più importanti quelli dinamici quindi dobbiamo assistere a una cosa del genere già qui secondo me bitcoin sarà o vicino o starà tentando di superare i massimi e quindi sarà un segnale anche questo estremamente importante occhi puntati nei prossimi mesi su questo indicatore e sulle date di cui vi ho parlato cosa ne pensate anche voi scrivetemelo nei commenti vi ricordo che vi lascio i link dell'academy per gli ultimi giorni che siamo aperti seguiremo attentamente anche tutte queste cose che stiamo vedendo proprio in academy perché la prossima fase se ci sarà del mercato cripto è quella migliore è quella più importante e soprattutto è quella più breve dove bisognerà essere preparati e supportati perché per gestire quella fase se arriverà sarà un'occasione unica e come è stato per le altre due volte io ragazzi sono qui da un po' di tempo quindi le abbiamo già fatte due volte questa cosa questa sarebbe la terza come si dice non c'è due senza tre speriamo ciao a tutti qui Grazie.